Devo dire che ho sempre sentito che i miei compagni di scuola erano idioti, come Melvin Greenglass con quel faccino a culo, e Enrichetta Farrell, Miss, ce l'ho solo io, e Ivan Ackerman, che non ne azzeccava mai una. Mai. Sette e tre fanno nove. Fin da allora sapevo che erano sessi. Nel 1942 io avevo già scoperto le donne. Mi ha dato un bacio, un bacio! Alvi, è la seconda volta questo mese! Vieni subito qui! Ma che ho fatto? Vieni subito qui! Ma che ho fatto? Alvi, sei un sudicione, vergognati! Perché era solo una manifestazione di sana curiosità sessuale. I bambini di sei anni non hanno in mente le ragazze! Io sì. Ma santo iddio, Alvi, perfino Freud parla di un periodo di latenza! Beh, io non l'ho mai avuto un periodo di latenza. E che posso farci? Perché non cercavi di essere un po' più come Donald? Quello era un bambino modello. Via la gente dove sei oggi, Donald! Dirigo una florida società di confezioni. Ecco, a volte mi chiedo dove sono oggi i miei compagni di classe. Sono il presidente di una società di impianti idraulici. Sono grossista di Rosari. Io prima sono stato eurinomani, ora invece sono morfinomani. Io batto il centro. Sono grossista di un po' più come 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 un po